Dopo aver dichiarato il Parco Plastic Free, il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Valodidiano e Alburni, ha deciso di finanziare e concedere il proprio patrocinio e i contributi soltanto per le iniziative che si dichiareranno Plastic Free, liberi dalla plastica. Una lodevole iniziativa purtroppo seguita soltanto dal Comune di Pollica che con un'ordinanza ha previsto che le attività ristoratrici e ricettive non potranno più utilizzare materiali plastici non compostabili. A mettere in risalto in una nota stampa la problematica è il presidente di Lega Ambiente Agropoli, Mario Salsano. Eppure, continua Salsano, ormai è noto da tempo che l'inquinamento causato dalla plastica, che ha tempi di decomposizione di circa 100 anni, causa danni rilevanti all'ambiente, alle falde acquifere, alla flora, alla fauna, al mare, ai fiumi, influenzando negativamente le forniture alimentari umane. Negli ultimi tempi, in media, ci fanno vedere spesso l'isola di plastica del Pacifico grande tre volte la Francia. Rimaniamo turbati, ma tutto sommato pensiamo che il problema non ci riguarda. Invece riguarda anche noi. Nelle frequenti iniziative svolte dal Circolo Lega Ambiente Stella Maris di Agropoli, di Pulizia, dei Sentieri e della Costa da Trentova a Santa Maria di Castellabate, delle spiagge di San Marco, del Porto e di Trentova, abbiamo raccolto quintali di rifiuti in gran parte plastica. Le istituzioni hanno un ruolo fondamentale per la riduzione della plastica, ma non è sufficiente perché occorrono anche azioni socioeducative nelle scuole. Cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, che devono fare scelte consapevoli, dei pescatori che non devono buttare a mare il polistirolo, delle attività commerciali che possono limitare l'uso della plastica. È scandaloso, denuncia Salsano, che nei supermercati di Agropoli è quasi impossibile trovare l'acqua minerale in bottiglia di vetro con vuoto a rendere e le stoviglie biodegradabili. L'appello dunque a tutti i comuni del Cilento, da parte di Lega Ambiente Stella Maris Agropoli, affinché aderiscono all'iniziativa Plastic Free, a partire dalla città agropolese, perché è possibile liberarci dalla plastica per tutelare l'ambiente e la salute.